che ci proporrà una coreografia in stile major set di danza orientale coreografata da Minette del Tempo, ballerina, coreografa, insegnante di danza orientale, fusion e balcani prepariamoci quindi ad accoglierla in tutta la sua bellezza e il suo straordinario talento fatemi sentire un bel applauso Veronica A presto 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 A presto